Tanto quanto le tasse uniscono la maggioranza dei contribuenti nello scarso piacere a pagarle, tanto dividono tra i politici chi dai banchi della maggioranza sostiene di averle abbassate e chi dall'opposizione le denuncia l'aumento. Succede anche a Tombolo, dove sulla Tasi, in municipio, si consuma uno scontro anche dai toni aspri, con le opposizioni che attaccano il sindaco imputando gli aumenti che vanno anche dal 300 al 600%, insomma la denuncia di un salasso che però per il primo cittadino è totalmente infondata. Noi siamo andati a confrontare la Tasi con l'Imu del 2012 e su questo è stata fatta demagogia perché le opposizioni, anche qualche cittadino, ha detto ma nel 2013 non abbiamo pagato niente, non abbiamo pagato niente perché lo Stato per quell'anno aveva deciso di non far pagare l'Imu sulla prima casa, perciò il confronto va fatto con il 2012. Il sindaco Cristian Andretta elenca allora i dati della Tasi 2014 a Tombolo. Persone in difficoltà con case piccole e mini appartamenti non hanno pagato assolutamente niente. Persone con metrature importanti, oltre i 900 di rendita, complice l'aliquota molto più bassa rispetto all'Imu perché il 2,5 è quasi la metà del 4,6%, si sono trovati a pagare molto di meno e anche abbiamo dato un aiuto per chi ha case di volumetria media e paga l'uno e mezzo.